La prima foto è stata quella della vittoria con la Errani, mentre esulta in mutande a casa. E lei l'ha postata su Twitter. Da lì il passo per una scaramantica spirale di scambio foto post-vittoria è stato breve, giocando ogni volta al rialzo, con la consapevolezza di aver dato la stura ad un rito che non può più essere interrotto, visto che ad ogni foto postata la successiva partita è stata una partita vinta. In ballo c'è lo slam degli US Open di scena New York e se interrompere portasse male sarebbe imperdonabile. Protagonisti Flavia Pennetta è un brindisino amico e focoso sostenitore della campionessa in gonnella che sta facendo sognare tutta la città. Ogni sua partita l'ho seguita con lo stesso Pathos, ci racconta per telefono, anche quando era 150esima in classifica. Così, dopo la vittoria, è partita la seconda foto, mentre re-imbarca con i fuochi d'artificio alle spalle durante la festa patronale e un brindisiale dedicato. Alla terza vittoria contro l'Alep è scattata la foto in perizoma. E a quella entusiasmante contro Roberta Vinci, la scritta sull'autobus di linea di cui è conducente, Flavia, fammi sognare ancora, che sebbene scattata a mezzo fermo e parcheggiato nel garage, rischia ora di creargli qualche problema con l'azienda, motivo per il quale il tenace tifoso ha preferito declinare i nostri microfoni. Certo è che per vedere la partita di stasera ha effettuato un cambio turno. Ora si gioca l'ultima sfida. Se vinci lo slam, ha scritto a Flavia, allora mi metto il proprio nudo. Che dire? Staremo a vedere.